Là dove lo Stato è assente e ingiustificato. Là dove non ti aspetti di trovare il degrado più assoluto e il rifiorire di una criminalità alimentata dall'abbandono assoluto della civiltà e del rispetto per le cose e le persone. Capo soprano, il quartiere ricco e culturalmente avanzato della città di Gela. Qui vivono professionisti, insegnanti, giovani impegnati nel sociale. Riceviamo tante segnalazioni tra ansie e preoccupazioni di chi qui ha scelto di vivere pensando ad una quotidianità non agiata o privilegiata ma quantomeno normale. A due passi dalla via Pitagora, dal polo scolastico che comprende diversi istituti di istruzione superiore tra cui un liceo, ecco il panorama che ci si trova davanti. Le immagini parlano e si commentano da sole. Inorridiamo dinanzi alla sporcizia, allo scempio che regnano sovrani e dopo lo sconforto iniziale ci poniamo delle domande. Perché accade? Perché si decide di devastare, scardinando addirittura e immaginiamo con un certo impegno e fatica un piccolo spazio originariamente pensato per bambini e famiglie? Ma siamo veramente così a suoi fatti, abituati al brutto che ormai nulla ci impressiona più di tanto? L'individualismo sfrenato ci ha inesorabilmente condotto ad abbandonare luoghi di incontro reale per preferire quelli virtuali più sicuri sul comodo divano di casa nostra? Siamo davvero tutti concentrati sul piccolo luminoso quadratino interattivo del nostro smartphone tanto da non farci rendere conto che stiamo precipitando in un pericoloso abisso? Se davvero così è, allora prepariamoci a restare sempre più soli, al sicuro delle nostre poco sicure abitazioni, mentre fuori il disagio di molti diventa devastazione. A proposito, abbiamo scritto questo pezzo concentrandoci sulle parole da scrivere, andiamo a controllare di aver chiuso bene la porta.